Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati qui sul canale, io sono Pietro e oggi con voi volevo andare a vedere assieme Corsera, una piattaforma di corsi online, in realtà è un po' riduttivo dire corsi online o meglio solamente corsi online perché ci sono veramente tantissime opportunità su questo tipo di piattaforma e andremo a vedere anche le sue potenzialità e ovviamente che cosa ci può offrire ma in realtà possiamo accedere anche a dei corsi di laurea online che possiamo seguire da remoto io sono stato registrato a Corsera per due periodi della mia vita per seguire due corsi che mi interessavano uno in HR e uno in Food Marketing che mi interessavano parecchio poi ho smesso l'utilizzo per una questione di poca utilità per me però mi rendo conto in realtà che può essere molto utile a tutti coloro che cercano dei corsi di specializzazione per magari colmare delle skill sul proprio curriculum e per poter eventualmente trovare magari lavoro in un campo e sopperire magari a quella piccola mancanza che ci permette di ottenere quel tipo di posizione lavorativa qui siamo nella home page di Corsera che ovviamente ha un costo che andremo a vedere assieme praticamente la piattaforma collabora con le top università mondiali da Stanford, Penn State, Michigan, IBM, Google come top companies, Duke, Illinois insomma abbiamo veramente ottime università, ottimi istituti qui diciamo che ci sono tutti i percorsi di carriera ad esempio che possiamo ottenere tramite le certificazioni Google gli stipendi che possiamo ottenere diciamo che le certificazioni Google soprattutto negli Stati Uniti vengono calcolate in maniera molto molto positiva in Italia magari in alcune posizioni vengono viste un po' come oddio che cos'è però in realtà possono essere molto utili da poter prendere come vi dicevo per poter acquisire delle nuove competenze anche come vi dicevo appunto il discorso sui corsi di laurea ce ne sono diversi principalmente master ma ci sono anche le trennali vi consiglio però per i prezzi che ci sono di andare on campus se se ne avete l'opportunità perché diciamo che è un po' troppo forse per alcune per alcune per alcuni per alcuni indirizzi ci sono poi le novità dei corsi che ci sono ci sono anche i corsi gratuiti contate che il corso gratuito non vi consenti di avere un certificato alla fine quindi in realtà è sempre meglio pagare la membership o il singolo corso qui ci sono tutti gli argomenti tutti diciamo le materie le discipline con le quali possiamo seguire un corso qui ovviamente un po' di social proof che ci sta sempre bene e devo dire che da un punto di vista di piattaforma io mi sono sempre trovato bene perché comunque è molto completa e devo dire che ti fa venire voglia di intraprendere un percorso io accedo con la mia mail di google perché sicuramente ho già l'account quindi non ho enormi possibilità sotto questo punto di vista o meglio di nuove registrazioni strane però comunque diciamo che sono abbastanza tranquillo ed eccomi qui sono dentro una piattaforma la registrazione comunque può essere fatta veramente nell'arco di pochissimo tempo quindi non vi preoccupate sotto questo punto di vista come dicevo c'è la parte earn your degree ad esempio ci può interessare un master of science in management scusatemi all'università Illinois che è vicino a Chicago questa business school è molto importante possiamo ottenerlo per meno di 12.000 dollari mi pare che costi sugli 11.000 è comunque un prezzo abbastanza importante per un master online ma in realtà se è andata tipo alla sole 24 ore business school non pensate di spendere tanto meno può essere fatto in 12-24 mesi come vedete qui avete un po' tutta la parte a missioni academics, tuition, careers, student experience quindi diciamo che è abbastanza ricco come programma e soprattutto le università all'estero investono tantissimo nei programmi online cosa che spesso in Italia viene vista un po' in maniera negativa perché viene associato a non lo so ho nulla facenza o ho una scarsa volontà di voler fare diciamo le cose nella via o nella maniera tradizionale qui sono i certificati più popolari in realtà questa qua è una user experience molto personalizzata su di me Google Project Management come vi dicevo i certificati Google sicuramente sono quelli più fighi insieme a quelli della IBM e della Unilever diciamo quelli fatti proprio dalle aziende perché vi danno l'opportunità di poter apprendere delle skills che vengono richieste direttamente dalle aziende quindi è un certificato che può essere visto in maniera super positiva soprattutto all'estero qui sono gli ultimi prodotti, gli ultimi corsi che ho visto questi qua sono quelli che ho guardato e questo qua è della Unilever come vi dicevo Digital Marketing Analyst se vi interessa ve lo consiglio è molto molto figo e prima o poi lo inizierò con molta calma qui mi dice advance your journalism and broadcasting career perché avevo messo come interesse appunto la volontà di voler lavorare nel giornalismo e nelle trasmissioni in generale però diciamo che mi sono registrato a Corsera durante il Covid e che lavoravo o avevo appena finito di lavorare come ha detto stampa quindi avevo ancora quella passione però sicuramente ci sono le opportunità un corso molto interessante ad esempio è Business English che vi può dare sicuramente tante opportunità anche dal punto di vista del writing qui ci sono i project work che possono essere realizzati nell'arco di un paio d'ore e vi possono dare la pratica necessaria per poter realizzare alcuni progetti soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo di certe piattaforme magari non è fighissimo il certificato però magari se avete dei progetti personali possono essere sicuramente molto utili qui ci sono tutte le categorie riguardanti i corsi e qui i nuovi corsi che ovviamente sono arrivati su Corsera qui Build in Demand Marketing Skills sa che appunto guardo molto il marketing e ci lavoro quindi insomma qua mi ha fatto una sezione dedicata proprio all'acquisizione di nuove skills per poter fare carriera nel marketing qua appunto sempre suggerita in base ai miei interessi e diciamo che appunto questa qua è un po' la piattaforma da un punto di vista di home page di user experience generale devo dire che comunque è ottima molto chiara ed è figa come vedete ci sono le migliori università del mondo per esempio la Dioch University che sicuramente insomma spicca abbastanza come nome come vedete ci sono tantissime possibilità possiamo scegliere la subject quindi diciamo la materia per la quale seguire il corso la lingua il tipo di prodotto che andiamo a seguire tipo un progetto guidato un corso una specializzazione contate che nella specializzazione ci sono almeno 4 corsi quindi più corsi prendete ovviamente poi potete arrivare alla specializzazione o addirittura una laurea prendere una laurea la Dioch non è male però come detto questi percorsi costano magari 36.000 dollari a distanza a questo punto vale la pena allora entrarci di persona e qui la durata del nostro corso diciamo che 1-4 anni è sicuramente legato alla laurea le skills che vogliamo sviluppare i sottotitoli in che lingua li vogliamo avere e gli educator ovvero i professori che andranno ad insegnare il corso più nello specifico andiamo a vedere magari qualcosa legato al marketing siccome a me interessa particolarmente ad esempio questa certificazione qua è molto figa che è della meta di Facebook social media marketing professional certificate ci dà sicuramente tante possibilità per poter acquisire diciamo delle competenze per fare il social media manager io questa la volevo seguire la vorrei seguire in realtà perché ci sono molti aggiornamenti e appunto qui ci sono tutti i moduli diciamo che andiamo a seguire durante il corso introduction, social media management, advertising diciamo che è molto ovviamente specializzata su meta però diciamo che la cosa è molto figa ecco da questo punto di vista e qua ovviamente ci va a identificare un po' lo stipendio che possiamo ottenere negli Stati Uniti è molto statunitense come idea di piattaforma però comunque come vi dicevo anche in Italia sicuramente la possiamo utilizzare in maniera piuttosto importante ad esempio se volessi fare domanda posso entrare diciamo dentro sia come diciamo utente gratuito senza prendere la certificazione che è praticamente inutile ve lo sconsiglio oppure fare un 7 day free trial e pagare poi 38 pound al mese in Italia non so sinceramente quanto sia mi parli sui 45 euro ma non voglio dire una cavolata però diciamo che avendo questo abbonamento voi potete avere l'accesso a tutti i corsi a tutte le specializzazioni del caso alle lauree ovviamente no alle lauree costano dipende ovviamente dal tipo di percorso dal tipo di specializzazione dell'università che vogliamo ovviamente intraprendere e iscriverci find your new career questa è sicuramente una parte molto interessante perché comunque riguarda tutte le carriere tutte le diciamo le possibilità che possiamo intraprendere dal data analyst, project manager cyber security professional UX designer, IT supporter digital marketer insomma ci sono veramente tantissime opportunità e diciamo che è bello andare a esplorare tutte le varie opzioni che si possono andare a vedere su my learning abbiamo diciamo i certificati che si sono ottenuti in progress ovviamente io non ho nulla completed come vi dicevo ne ho due ho due corsi uno della Bocconi e uno dell'università del Minnesota questo qua è preparing to manage human resources food and beverage management non era food marketing scusate qui possiamo andare a vedere poi il nostro certificato più nello specifico vedete ho completato con un grade dell'86% possiamo fare il download del certificato andare a vedere le skills che abbiamo acquisito è stato un bel corso devo dire eccolo qui pittro galinta come vedete diciamo c'è sempre ovviamente il bollino di corsiera ho sempre pensato che potesse sembrare un po' cringe diciamo per un datore di lavoro che va a vedere una roba del genere però in realtà come dire avete comunque intrapreso un percorso ed è giusto che lo valorizziate in generale quello che vi posso dire è che corsiera è un'ottima piattaforma come skills diciamo come acquisizione di nuove di nuove abilità di nuove competenze soprattutto se ci mancano io ho più che i singoli corsi che possono essere interessanti che andrei a seguire più per diretto mi concentrerei molto sulle specializzazioni soprattutto oggi per quanto riguarda il mondo dell'intelligenza artificiale marketing e non solo quindi il mio consiglio è quello di specializzarvi molto sotto questo punto di vista perché là fuori il mondo è molto competitivo ci sono corsi anche per esempio legati come vi dicevo al business english quindi che possono essere sicuramente importanti magari per acquisire determinate competenze linguistiche per quanto riguarda la comunicazione ad esempio english for business and entrepreneurship può essere veramente molto molto figo sono corsi che appunto durano da l'uno a tre mesi ti richiedono un impegno settimanale penso di un paio di ore cioè in realtà se uno si impegna penso che vedete tre ore no scusate tre settimane dieci ore alla settimana in realtà questo qua è un po' più tosto ci sono alcuni corsi che sono un po' più un po' più blandi solitamente diciamo che durante il corso vengono fatti dei quiz o comunque delle submission a livello di assessment quello che ovviamente non avete il feedback è di un vero e proprio professore avete magari delle autocorrezioni del feedback che viene dai vostri compagni di corso online diciamo che da questo punto di vista sì non è che abbiate chissà che cosa soprattutto su questi corsi singoli però sulle specializzazioni in realtà spesso avete dei test veri e propri che se sbagliato dovete ricominciare il corso da capo e sono molto specifici e fatti in maniera molto articolata quindi in realtà questo aspetto sulla qualità del corso in sé non dipende tanto da Corsera che a livello appunto di user experience è molto figo ma dipende molto ovviamente dall'università che mette il corso sopra ovviamente Corsera si fa si fa pagare bene per lo spazio che mette diciamo che io personalmente vi consiglio Corsera se appunto dovete acquisire delle nuove competenze soprattutto per quanto riguarda i project work che possono essere molto interessanti il costo di 38 pound o comunque 45 euro al mese non è un costo eccessivo se pensate comunque alla possibilità di poter seguire lezioni sì che sono online sì che sono sempre tutte registrate però comunque da top università e alcune secondo me nozioni magari non le imparereste molto facilmente questo è un di più diciamo oltre a un percorso di studi a una laurea quindi il mio consiglio è sicuramente quello di poter di poter essere il più possibile diciamo flessibili sotto questo punto di vista però devo dire che in generale le opportunità che da Corsera sono tantissime ed è molto bello secondo me esplorarle tutte l'errore che si può fare è pagando la membership essere un po' affamati da tutto oggi imparo food and beverage management introduction to business international business mi raccomando nel senso cercate sempre di essere molto molto strategici in questo dove mettere in realtà i corsi le competenze che andate ad acquisire su Corsera su LinkedIn io vi sconsiglio di metterli diciamo nell'area dedicata all'università all'istruzione perché quello in realtà lo lascerai più o su professional certificates diciamo che se avete preso qualcosa di molto importante ma non da Corsera ma da un magari avete fatto proprio un corso di 10 15 settimane molto specifico quasi un executive master e un conto però tutto il resto lo metterei sempre nella parte delle certificazioni perché comunque voi non avete frequentato l'università della California ecco avete fatto un corso online erogato da Corsera per l'università della California ecco quindi io a volte vedo delle persone che hanno fatto 8 università diverse poi vado a vedere bene queste Corsera queste Corsera queste Corsera il datore di lavoro lo sa e soprattutto se prendete diversi tipi di corsi e magari state applicando un lavoro mettete i corsi ovviamente che sono inerenti a quel tipo di lavoro non food and beverage management e poi magari andate a fare che ne so i calciatori ecco per dire ovviamente un esempio molto estremo anche perché per fare il calciatore non serve scrivere un curriculum ma bisogna saper giocare a calcio comunque questa qui era una overview di Corsera spero vi sia piaciuto questo video se avete delle domande delle considerazioni lasciatemi qui sotto nei commenti avete tutti i miei link soprattutto ciao mamma platform percorso personalizzato per tutti voi per tutti coloro che si vogliono trasferire all'estero quindi mi raccomando se volete farci un giro andateci perché ci fa piacere insomma se avete la voglia così di esplorare magari qualcosa di nuovo e farvi accompagnare da persone che vivono all'estero e che hanno voglia di aiutarvi a presto un abbraccio a presto